Gli olivicoltori pugliesi della Olivetti Terra di Bari sono scesi in campo al fianco di medici, infermieri e operatori sanitari che ogni giorno lottano contro il coronavirus nelle strutture pugliesi. Per questo hanno portato al Policlinico di Bari, uno dei centri covid della provincia, 10 respiratori polmonari, 100 maschere facciali per ventilazione e 200 tute di protezione a disposizione del pronto soccorso. Hanno dato un grande segno, un segno di speranza e solidarietà che quasi fa dell'olivo il simbolo di tutto questo e soprattutto della nostra terra come terra di pace e di solidarietà. La consegna è stata fatta da Gennaro Sicolo, presidente di Olivetti Terra di Bari, a nome di tutte le cooperative Olivicole di Bitonto, Terlizzi, Molfetta, Ruvo di Puglia, Curato, Minervino e Turitto, soci di Italia Olivicola, dei responsabili del centro di imbottigliamento e stoccaggio Finoliva Global Service e di CIA Agricoltori Italiani Puglia. Noi come mondo olivicolo abbiamo fatto questo piccolo dono ai nostri concittadini e ai nostri strutturi ospedalieri. Abbiamo fornito 10 ventilatori polmonari, 100 mascherine professionali, 200 tute. È il minimo che potevamo fare per aiutare gli operatori sanitari e le forze dell'ordine che stanno facendo un lavoro enorme. Il mondo agricolo non si è mai sottratto alle difficoltà della nazione. In questo momento quello che possiamo fare è sostenere con piccoli gesti un dramma che stiamo vivendo a livello nazionale e internazionale.